ok ragazzi ciao a tutti oggi un video molto diverso dal solito come vede come vedete non siamo su playstation non siamo sul telefono ma siamo sulla wii una cosa un po rara da vedere nel 2020 ma che ci posso fare io guardate qui ragazzi questo è un glitch che stiamo provando a fare da millenni cioè guardate qui perché non so se voi conoscete bene questo gioco o cose del genere ma praticamente noi siamo usciti fuori dal percorso guardate e siamo al centro c'è tutto invisibile questo che devo ammettere ci ho provato io tantissime volte non ci sono riuscito ci ha provato mio fratello c'è riuscito che ci posso fare cioè guardate qui ragazzi è particolarmente penoso cioè guardate qui c'è davvero orribile e ragazzi finalmente siamo riusciti dopo tantissimo tempo vabbè io direi che il video può finire qui è durato davvero poco ma solo per farvi vedere solo per farvi vedere come funziona e noi ci vediamo nel prossimo video grazie